Secondo gol qui all'Angelini da parte tua, terza vittoria consecutiva, siete sempre primi? Eh sì, adesso dobbiamo essere bravi a rimanere con i piedi per terra, che comunque oggi abbiamo fatto una grande prestazione, c'è stato anche il gioco che c'era stato anche richiesto dalla piazza e da tutti e quindi abbiamo risposto alla grande. Ora bisogna essere e lavorare perché ci sono stati anche degli errori e quindi dobbiamo cercare di rimanere con i piedi per terra perché il campionato è ancora lungo. Ci racconti un po' il tuo gol? Sì, sì, sono schemi provati anche in calcio d'angolo perché loro marcavano una zona, quindi c'è andata bene e adesso ci godiamo il momento. Senti, che differenza è stata tra il primo e il secondo tempo? Perché tanta differenza da parte vostra? Siete stati poco pericolosi nel primo tempo? No, io credo che comunque nel primo tempo non abbiamo calciato in porta. Il primo tempo siamo arrivati parecchie volte sulla tre quarti, però... Mancava il passaggio decisivo? Mancava il passaggio decisivo, invece nel secondo tempo siamo stati bravi a continuare sulla scena del primo ed essere più incisivi. Senti, siete un gruppo granitico, anche chi gioca e subentra, come per esempio Falle, il nuovo arrivato, riesce ad essere decisivo, incisivo? Sì, sì, c'è bisogno di tutti. Per vincere i campionati comunque bisogna avere l'aiuto di tutti, bisogna avere tutti i giocatori, sia quelli che vanno in panchina che vanno in tribuna, che comunque remono da tutti quanti alla stessa parte e questo gruppo lo sta dimostrando. Quindi dobbiamo cercare di continuare così, lavorare e rimanere umili. Cosimo, ti sei lasciato scappare per vincere i campionati, quindi volete vincerlo? No, no, sì, è normale, l'obiettivo c'è sempre, se nella vita non hai obiettivi non devi giocare. Quindi l'obiettivo è quello di rimanere là sopra, di provare a fare cose importanti, perché questa piazza, questi tifosi magnifici che ci hanno sostenuto fino alla fine, ti fa capire l'importanza dove stai giocando e che comunque se fai qualcosa di grande e rendi una magia importante, vivi un sogno, dico. Il primo gol non so a chi tu l'abbia dedicato, il secondo? No, sinceramente i miei gol li dedico sempre ai miei figli e a mia moglie, però questa volta ho fatto una dedica speciale a Matteo Ardemagni, perché Matteo è un grande professionista, abbiamo un attaccante più forte che ci sia in Serie D. Oggi l'ho visto molto bene, gli manca solo il gol e presto arriverà, quindi la dedica è andata a lui, perché so quanto lavora, anche a 36 anni, a vederlo lavorare è una cosa per noi, uno stimolo in più. E quindi questo gol l'ho voluto dedicare proprio a lui, abbracciandole, perché ci dà tanto. L'ultima, siete i primi, domenica a Sora? Sì, sì, vabbè, è inutile, io ho una certa esperienza dove non bisogna guardare la classifica. Adesso dobbiamo analizzare la partita, analizziamo questa, ci godiamo il momento e poi analizzeremo il Sola, che comunque è sempre una battaglia, perché tutte le squadre anche là sotto lottano per salvarsi e quindi noi dobbiamo cercare di farci trovare pronti.